Le Trix, con il potere della fiamma del drago rubata a Bloom, hanno prima conquistato Torre Nuvola, poi attaccato Alfea e Fonte Rosse. La prima incursione è stata respinta grazie al coraggio degli specialisti. Durante un attacco Sky si è allontanato definitivamente dall'egoista di Aspro, mentre Riven, finalmente, ha compreso che Darcy lo ha sempre usato. Sappiate che le vostre insulse scuole di magia hanno le ore contate. Noi abbiamo il potere supremo e niente ci potrà fermare. Nella conquista e nel dominio della dimensione magica vi lasciamo 12 ore per arrendervi incondizionatamente. Poi di voi non rimarrà più nulla. Sono completamente folli. La loro follia è paragonabile a quella delle tre antenate. Sì, Saladin, ma le tre antenate non arrivarono mai ad avere il potere delle fiamme del drago. Insieme ce la faremo. Torno alla mia scuola per organizzare le difese. Non abbiamo tempo da perdere! Miei piccoli vargoli, siete tornati dalla vostra mammina. Avete ancora voglia di giocare, non è vero? Oh ma... terribile! Non c'è più posto per noi due. Non c'è più posto per noi due. Per il pericolo l'intera dimensione magica. Purtroppo questa volta l'ambizione e il potere hanno avuto la meglio sull'equilibrio delle cose. Bloom... Con il potere che ti hanno preso e la loro malvagità sono imbattibili. Voi dovete tornare su Domino. Oh... Domino! Ma perché? Bloom, devi sapere che tanto tempo fa le tre antenate distrussero completamente il mondo da cui tu provieni. Ora, Icey, Darcy e Stormy hanno ripreso lo stesso cammino. Forse nell'antico palazzo reale su Domino potrai trovare un indizio, una traccia. Un aiuto per riprendere quello che ti appartiene. La fiamma del drago. Tu sei l'unica salvezza per tutti noi. Sì, Bloom, noi verremo con te. Ma certo, contaci. Tranquilla, non ti lasceremo sola. Grazie, ragazze. Bene, allora, siete pronte per iniziare, ragazze? Ho apportato alcune modifiche all'impianto e fra pochi secondi il simulatore si attiverà aprendo un passaggio dimensionale che vi porterà direttamente su Domino. Però ricordatevi, questa volta tutto sarà reale. Mi raccomando, massima concentrazione, massima tranquillità e soprattutto buona fortuna. Siamo nelle loro mani. Domino è totalmente ghiacciato. Scioglierò il ghiaccio dai miei ricordi. Se non ci sbrighiamo a trovare il palazzo reale finiremo congelati. Forza, ragazzi! Grazie. 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 Fermi, ragazze! Questo clima è del tutto innaturale. La natura sta soffrendo. È vero. Il suono del vento è caotico e rabbioso. Forza, ragazze! Un po' di ottimismo! Non riesco a vedere più nulla! Spero che la vostra presenza qui non sia solo un trucco delle tricks. No, no, noi vorremmo chiedervi aiuto. Ma prego. E io dovrei fidarmi. Sì, dovrebbe, dovrebbe. Noi siamo amici ora. Icy, Darcy e Stormi sono diventate ultra mega cattivissime. Le streghe non ci perdoneranno mai la nostra fuga. Ah, vedo che avete ospiti. Li conosco. Sono due stupidi traditori. Sei passato dalla parte sbagliata, stupido orco. Che voi siate maledette! Ascoltatemi tutti, ragazzi! Siamo in serio pericolo, quindi non c'è tempo da perdere. Dobbiamo agire alla svelta. Siete pronti ad affrontare... La battaglia? Sì! Siamo pronti! Dovete fermarle a tutti i costi! Sì! Siete pronti ad affrontare... Siete pronti! Siete pronti ad affrontare... è arrivato il momento alla carica ragazzi è arrivato il momento alla fine Sono di nuovo per le bestiace. Attenzione, è lì alle te spalle! Non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono. Vi avverto è inutile opporsi, luridi insetti insignificanti, niente ci può resistere! Però, che forza! Grazie, Knut! Glorim atreum, solis negatum! Puret lestat, item laudet, item raetum! Andate via, creature del male! Lasciate funte rossa! Oh no, dannazione! Le stalle sono in fiamme! E' inutile, Saladin! Non riuscirai a salvare la tua scuola! Alle navette presto! Dobbiamo ritirarci in fretta! Alla prossima! Oh no! Beh, che dire Siamo state davvero grandi Insuperabili Il bello deve ancora arrivare, sorella Forse è meglio iniziare a cocorrere Guardate là Scoppiamo! Guardate! 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 Fermaci, penso io, Bloom Magic Wings! Mi trasformerò Ponte di energia La mia magia Mi darà poteri E forza E più Nuova pata Io farò Che ne dici di un po' di vapore, bello? Qui si sta mettendo veramente molto male Ha una forza spaventosa Attenzione ragazze Addio, Bloom Grazie a tutti Finalmente siamo arrivati ad Alfea Questa scuola è ancora un baluardo sicuro Venite le ragazze Vi aiuteranno a sistemarvi qui Grazie Faragonda Non ti nascondo che la situazione è molto critica Ormai Fonte Rossa è perduta La fortezza della dimensione magica è stata battuta Loro hanno un esercito magico indistruttibile E noi abbiamo dovuto ripiegare Ma almeno adesso i ragazzi sono al sicuro No, purtroppo temo proprio che questo sia solo l'inizio di una guerra ben più grande Nel prossimo episodio Cosa si nasconderà nel misterioso intrico di gallerie gelate? Dove sarà Bloom? Da quale passato sarà sorto lo straordinario castello senza vita? Riusciranno le Wings a trovare la loro amica? Sapranno aiutarla a recuperare la fiamma del drago E sconfiggere l'esercito di ghiaccio inviato dalle Trix?